Nicola Montalbini, abbiamo appena finito la prima scuola dei Pulcini di questo 2015 qua a Certaldo, come sono andati? È stato bellissimo, chiaramente abbiamo trovato ragazzini che già erano venuti l'anno scorso e i vari corsi che erano stati fatti e si è visto poi il miglioramento e hanno assimilato soprattutto le cose state insegnate. Poi sono venuti dei ragazzi nuovi che l'anno scorso ancora non avevano l'età e non potevano fare i corsi e che se è visto proprio il miglioramento è vista d'occhio, quindi è veramente un piacere fare questo tipo di scuole con i ragazzini perché trasmettono una grande voglia e gioia di farlo. Senti, un po' di teoria, un po' di pratica, le impostazioni, la posizione sul quad, come si prende la curva più larga o meno larga, insomma tutte queste cose? Sì, sono la base poi della guida che viene effettuata sui percorsi poi da gara, quindi sono andato a curare proprio le basi perché era una scuola proprio per i primi piloti che iniziavano a fare le gare, quindi siamo andati a vedere praticamente le basi della guida. I bambini sono stati contenti? Contentissimi direi, i genitori e anche, quindi... Tutto è andato bene. E quindi bisogna solamente rifarne altri. Esatto, perseverare. Perfetto, grazie mille. Ok, ciao, ciao. Ciao.